L'Abruzzo è tra le regioni italiane dove la scarsità di manodopera è salita e si attesta a un più 11,5%. Questa è una vera e propria emergenza. Nell'ultimo anno infatti è diventato molto difficile trovare lavoratori. È confartigianato a lanciare l'SOS Assunzioni con un rapporto da cui emerge che per le imprese è sempre più difficile trovare manodopera. È un allarme per un fenomeno diffuso in tutti i settori, da quelli tradizionali alle attività digitali e high-tech. Insomma, un'emergenza in crescita. Le imprese faticano di più a trovare dipendenti. Le maggiori difficoltà di riperimento si riscontrano per i tecnici specializzati nella carpenteria metallica, nelle costruzioni e nella conduzione di impianti e macchinari. Serve un'operazione di politica economica e culturale a questo punto. Un'operazione che avvicini la scuola al mondo del lavoro, per formare i giovani con una riforma del sistema di orientamento scolastico che rilanci gli istituti professionali e gli istituti tecnici, che investa insomma sulle competenze, a cominciare da quelle digitali, e punti sull'alternanza scuola-lavoro e sull'apprendistato professionalizzante. Dobbiamo, in parole semplici, insegnare ai giovani che nell'impresa ci sono opportunità adeguatamente retribuite per realizzare il proprio talento, le proprie ambizioni e per costruirsi il futuro.